Mi rifarei un bel sguardo a me che mi piace proprio, ma sento, dai su facciamo quella e poi chiudiamo Eh, ti va? Alla tua Io intanto vi ringrazio ancora davvero, questo è davvero una serata emozionante stasera, davvero E ringrazio ancora la mia band, ringrazio tutti voi e la Locanda Blues che ci ha ospitato stasera Nobadi's wife, è poi, ci sono 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 Nobadi's wife, ci sono